Il Consiglio regionale ha approvato oggi pomeriggio la modifica alla legge regionale del trasporto pubblico locale con l'eliminazione dell'Agenzia Unica. Le opposizioni di PD, Movimento 5 Stelle e Reta Sinistra hanno lasciato l'aula per protesta contro la mancata autorizzazione all'ingresso in sala dei lavoratori e il voto è stato gestito dai soli 16 consiglieri di maggioranza. La modifica della legge regionale sul trasporto pubblico locale prevede l'abolizione del bacino unico di servizio, l'abolizione della gara unica per l'affidamento del servizio e la soppressione dell'Agenzia regionale del trasporto pubblico locale. Saranno invece istituiti quattro bacini provinciali e quattro gare per affidare il servizio. Per il PD si tratta di un passo indietro che aggrava la debolezza del trasporto pubblico locale mentre per il Movimento 5 Stelle è il primo passo verso la privatizzazione.